Un processo partecipativo a Racuia per il piano urbanistico generale, cioè quello che un tempo si chiamava piano regolatore generale. E' ciò che vuole realizzare l'amministrazione comunale di Racuia, guidata dal sindaco Ivan Martella, secondo le previsioni della nuova legge urbanistica e dove aver approvato le direttive con l'atto di indirizzo per il nuovo strumento di programmazione del territorio. La partecipazione all'iter di redazione del nuovo piano risponde all'esigenza di condividere, comunicare, informare e ascoltare i cittadini per favorire un dialogo con i soggetti interessati alla formazione del Pug. Per il sindaco Martella il percorso partecipativo ha come primario obiettivo favorire la conoscenza del Pug quale nuovo strumento di governo del territorio e attivare forme di partecipazione con il coinvolgimento attivo della cittadinanza, degli operatori economici, degli enti e dei professionisti. Il percorso partecipativo si inserisce all'interno della procedura di redazione del Pug e nello specifico nella fase di studio e di consultazione preliminare e serve ad attivare la partecipazione reale, raccogliere i suggerimenti, le impressioni, le proposte e tutto ciò che si ritene utile per la costruzione del quadro conoscitivo e delle strategie del piano in un reciproco confronto volto a migliorare la qualità delle scelte e il progetto di Pug. La giornata di partecipazione si terrà sabato 4 novembre alle ore 16 presso il castello Branci Forti di Racuia con la presenza dei progettisti, la partecipazione di cittadini, imprese, professionisti e ordini professionali.